eccoci in una nuova video recensione oggi abbiamo uno sbattitore elettrico philips modello hr 1459 slash doppio zero ma passiamo all'unboxing dunque come si può immaginare questo sbattitore elettrico è utile in cucina ha un motore molto potente da 300 watt che è ideale per sbattere montare impastare gli ingredienti alla perfezione a 5 velocità più turbo per preparare davvero tante ricette le fruste e i ganci da impasto che naturalmente sono inclusi nella confezione sono in acciaio inox è molto facile da pulire e gli accessori possono essere lavati in lavastoviglie è molto leggero semplice da utilizzare l'impugnatura è ergonomica quindi è davvero anche molto pratico le fruste e i ganci in dotazione sono dati per preparare impasti duri come pasta lievitata impasto per il pane per la pasta o per la pizza è adatto a utenti sia destri che mancini ha un comodo libretto di istruzione che è davvero molto chiaro è una garanzia di due anni bene anche per questa video recensione tutto per la recensione completa sul prodotto seguite il link nella descrizione e ricordatevi di visitare il nostro sito www.migliorprezzo.it 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 www.migliorprezzo.it